Dopo quello di Vallo, anche l'autovelox di Agropoli, spento dal mese di febbraio, è stato impacchettato. L'ANAS, azienda nazionale autonoma delle strade che gestisce la strada statale 18, meglio conosciuta come Cilentana, ha coperto con della plastica nera e dello scotch l'apparecchio. A quanto pare i due autovelox, quello di Vallo tra gli svincoli di Vallo e Pattano e quello di Agropoli, installato tra gli svincoli di Agropoli Nord e Agropoli Sud, non sono stati autorizzati. Ricordiamo che nei mesi scorsi l'ente comunale agropolese aveva ricevuto una diffida da parte dell'ANAS. È stato confezionato l'autovelox, tanto discusso, commenta la consigliera di opposizione Gisella Botticchio sulla sua pagina Facebook, spesso si fa uso improprio di uno strumento che doveva dare aiuto all'utenza. Sono favorevole agli autovelox, ma messi con normativa e coscienza, sottolinea la consigliera, e poi conclude scrivendo, questa città è diventata il bancomat di alcuni. Spero in futuro che metteranno un autovelox dignitoso e anche più di uno, con regole e metodo.